Bene, grazie e benvenuti a tutti allora e soprattutto benvenuto al nostro ospite, Sua Monsignor Nunzio Galantino, siamo molto grati che lei sia qui, siamo ancora più grati in questi giorni e lo presentiamo brevemente perché ha un ruolo, una funzione tale che si presenta da solo ma Nunzio Galantino si è laureato in filosofia nel 1974 a Bari, è stato ordinato sacerdote nel 72, è diventato vescovo di Cassano allo Ionio nel 2012 e come sappiamo alla fine nel 2013 Papa Francesco l'ha chiamato a il ruolo di segretario della conferenza dei vescovi italiani, è un pastore anzitutto e devo dire la verità per come abbiamo imparato a vederlo muoversi nella sua attività di pastore è uno di quei pastori che come dice Papa Francesco ha l'odore delle pecore, sta con la gente, vive la vita della sua gente, del suo popolo ma insieme è anche un teologo, teologo fine e allora oggi l'abbiamo invitato, lo dico subito, non per parlare di politici o di leggi, mi spiace per i colleghi che sono in agguato ma non parleremo di politici però parleremo di ciò che sta alla radice della politica, anche della politica, come ci ha ricordato peraltro Presidente Mattarella nel suo saluto dell'altro giorno, la persona è il fondamento della comunità e dello Stato, la sua libertà, il valore incomprimibile del suo essere unica e irripetibile, la persona, l'io, questo viene prima di tutto, è il valore più prezioso, l'io è la consapevolezza di sé, la consapevolezza di che cosa è l'io, di chi siamo, meglio l'urgenza della consapevolezza di sé, perché come abbiamo visto anche dall'inizio di questo meeting senza approfondire la consapevolezza di chi siamo, siamo smarriti, senza renderci conto di che cosa siamo fatti siamo smarriti, siamo persi, allora l'incontro di oggi parla di persona e di senso del limite, senso cioè significato, percezione di che cosa siamo fatti, che cos'è questa mancanza, questo bisogno, che risorsa può essere, che prospettive può aprire questo limite di cui siamo fatti e che sembra qualcosa di invalicabile, sembra qualcosa destinato a imprigionarci, ecco a sua eccellenza chiediamo proprio un contributo a capire, ad approfondire la nostra esperienza nel vedere che ricchezza può esserci in questa esperienza che tutti facciamo e viviamo del limite e quindi capire di più l'importanza, il valore della persona, dell'io. Lo salutiamo con un applauso e lo invitiamo a intervenire. Grazie a tutti quanti, grazie agli organizzatori per l'invito che mi è stato rivolto e per la opportunità che mi viene offerta per mettere in comune con voi una riflessione che non è iniziata oggi, non è iniziata ieri, ma quando nell'altra vita insegnavo antropologia, quindi sono in continuità con quanto già ho riflettuto e su cui ho anche scritto proprio su questo tema e proprio facendo riferimento a quello che ho scritto mi sono permesso un po', non so se potevo farlo, ma mi sono permesso di integrare il titolo, persona, senso del limite e fascino delle frontiere, proprio per poter già dare una chiave di lettura, una chiave interpretativa di quella che sarà la mia riflessione per capire dove voglio andare a parare, insomma. Penso che non dica niente di nuovo se affermo che il tema scelto per questa 36esima edizione del meeting è un tema di carattere squisitamente antropologico, un tema capace di portarci immediatamente al centro della questione umana, un tema capace di portarci al cuore dell'esperienza, quella che ognuno di noi va facendo, fa, un tema capace di portarci al cuore quindi dell'uomo stesso, un cuore mai appagato, un cuore che a tratti ma costantemente nel tempo sperimenta una radicale mancanza. A proposito della quale, a proposito della quale mancanza, Mario Luzzi interrogava il suo cuore con quelle parole che voi stessi avete scelto per questo meeting. Di che è mancanza questa mancanza cuore? Che a un tratto ne sei pieno. Un cuore, lo possiamo dire, lo dobbiamo dire, un cuore che se non è malato, un cuore che se non è sclerotizzato, fa del raggiungimento di ogni traguardo esistenziale, piccolo o grande che esso sia, fa di ogni raggiungimento di un traguardo esistenziale una metatransitoria, ne fa un punto di partenza, o di ripartenza per una tappa successiva. Guardate la stessa esperienza che trova Eco in una lettura che proprio ieri mi è capitato di fare. Ieri era la memoria liturgica di San Bernardo di Chiaravalle. Bene, nel suo commento al Cantico dei Cantici, a questo proposito, sentite cosa dice. La felicità di averlo trovato, si capisce, qui si riferisce all'amato del Cantico, no? La felicità di averlo trovato non estingue il desiderio santo, ma lo accresce. Forse che la pienezza del gaudio significa estinzione del desiderio? Anzi, è l'olio che lo alimenta, perché il desiderio è fiamma. Bello, bello. Mi sembra che sintetizzi bene proprio tutto questo. L'uomo, ogni uomo, vive così, vive così. Vive costantemente proteso alla ricerca di altro da sé. Nella fiduciosa attesa di poter, e lo vedevamo oggi proprio, lo vedevo poco fa, visitando la mostra proprio su Abramo, straordinaria, bella in questa sua progressione proprio, no? Ecco, ciascuno di noi fa quella stocca al cammino, fa quel percorso, perché viviamo in questa maniera noi, viviamo in attesa di poter dare un nome a questo altro da sé. verso cui noi ci sentiamo profondamente orientati. Dare un nome a ciò che può saziare il nostro cuore. Allora, io vorrei partire proprio da questo dato esperienziale, che accomuna tutti quanti noi, pur nella diversità di espressione che caratterizza ciascuno di noi. Vorrei partire da questo dato esperienziale per provare a interrogare quella mancanza che costantemente tiene desto, tiene affamato il nostro cuore. Vorrei provare con voi a riflettere sull'esperienza del limite e della fragilità che accompagnano la vita quotidiana di ogni individuo. In altri termini, voglio provare a rispondere all'accorata domanda di Luzzi. Di che è mancanza questa mancanza? Credetemi, tante domande mi si sono affacciate mentre preparavo queste riflessioni. A un certo punto ho avuto paura che fossero troppe e che il tempo a mia disposizione non sarebbe bastato. Però vedremo se ce la faccio. Vediamo. C'ho ancora un po' di tempo? Ah, meno male. E allora, ecco, queste domande che mi si sono affacciate, tra le più insistenti. E qui sono convinto, guardate, che sono domande che interessano tutti quanti noi, che sono presenti in maniera esplicita o implicita dentro ognuno di noi, tra le più insistenti. Perché? Perché il nostro cammino, il mio cammino individuale, perché il nostro cammino comunitario è contrassegnato in modo così profondo, qualche volta addirittura insopportabile dalla mancanza? E quindi perché gli uomini, prima o poi, fanno i conti con qualche forma di mancanza, di povertà? Un'altra domanda. L'esperienza del limite annichilisce la vita dell'uomo? O può rappresentare, se adeguantamente compresa e integrata, un'occasione di crescita e di umanizzazione? Un'ultima domanda. In che modo una seria assunzione del limite può portare a un rinnovamento dell'esistenza personale, può portare addirittura anche al rinnovamento dell'esistenza comunitaria? Ora, per rispondere a queste domande, partendo dall'esperienza della mancanza che il cuore dell'uomo patisce, provo a raccogliere le mie riflessioni sostanzialmente intorno a un paio di nodi, due o tre nodi. Vediamo. Il primo prende atto e raccoglie i frutti di approcci filosofici che hanno affrontato il tema del limite con l'uso della sola ragione. Perché questo è importante. Che ci misuriamo con le realtà ragionando, non vendendo il cervello all'ammasso, giocandocela tutta. In un secondo passaggio, e molto brevemente, riciamerò il contributo nuovo e unico della fede cristiana per la comprensione del limite. Quindi tenterò di far discendere da quello che chiamo senza pretesa di originalità, che chiamo antropologia del limite, e far discendere alcune conseguenze pratiche per la mia vita personale, per la vita dei singoli. Per la vita della Chiesa. Per la vita della società. E qui voglio collocare, come già subito, la mia riflessione nel nostro tempo. Un tempo che è stato, tra l'altro e da più parti, definito come tempo post-filosofico. È una delle tante definizioni che sono state date, no? Un tempo post-filosofico. Ma perché? Perché post-filosofico? Perché sempre meno attento alla giustificazione razionale degli orientamenti e delle scelte individuali e pubbliche. Guidate per lo più dal perseguimento di interessi e fini immediati e poco meditati. Dettate spesso dalla ricerca dell'utile e meno da un progetto consapevole, da un progetto a lunga distanza, da un progetto dal respiro ampio. Ecco, solo apparentemente, guardate, ricordiamoci, solo apparentemente questo modo di agire è privo di presupposti teorici o teoretici e di reali obiettivi. In realtà, presupposti e obiettivi esistono, ma non sempre sono esplicitati. Rimangono sotto traccia. Quasi non dovessero essere sottoposti a un vaglio attento. Cosa voglio dire? Voglio insistere su questo. A ogni azione o a ogni nostro orientamento corrisponde sempre un certo valore o disvalore che vogliamo perseguire. Sempre, alla base dell'agire, vi è una certa idea di persona, un ideale di essere umano e di società da raggiungere e verso il quale ci si incammina. Guardate che questo è vero anche per ambiti che potrebbero sembrarci assolutamente estranei a tutto questo. Voglio fare un esempio. Un urbanista che progetta una città. Voi sapete nel Medioevo cosa avveniva. C'era la chiesa al centro e poi tutto intorno. Alla base c'era una idea di persona. Voi immaginate un urbanista che oggi, non me ne vogliate, non voglio litigare con nessuno, un urbanista che oggi progetta una città e si dimentica il posto per l'ospedale, si dimentica di definire dove devono arrivare i treni se sono previsti. Non prevede assolutamente uno luogo di culto. Ecco, questo urbanista, che sono certo non esiste nella realtà e sono nella mia fantasia, questo urbanista, anche se non ha mai fatto esplicita professione di antropologia, sicuramente, guardate, nella sua testa ha idea che si può campare senza avere mai bisogno di un dentista, senza avere mai bisogno di doversi curare, senza aver bisogno di fermarsi qualche volta a riflettere anche con gli altri, a capire se abbiamo altro o se siamo altro rispetto a quello che giorno per giorno viviamo, eccetera. Quindi questo, voglio dire, guardate, a ogni azione e orientamento corrisponde sempre un certo valore che si intende perseguire. C'è sempre alla base un'idea di persona, un ideale di essere umani, di società da raggiungere e verso il quale ci si incammina. Possiamo allora dire che l'antropologia è il nostro modo di concepire la persona, è l'elemento centrale, è l'elemento propulsivo del nostro operare, perché a partire da come pensiamo la persona umana e il modo in cui dovrebbe vivere, noi costruiamo, per quando ci è possibile, un certo tipo di società e di esistenza individuale. Per questo motivo è necessario, è essenziale elaborare una antropologia, una adeguata antropologia, senza la quale si sarà guidati da una immagine distorta di ciò che siamo o dovremmo essere. Guardate che in fondo è stata questa la bella intuizione che ha accompagnato in maniera decisa e criticamente fondata l'impegno della Chiesa italiana attraverso il progetto culturale e più specificamente attraverso l'attenzione riservata alla questione antropologica dal Cardinale Ruini in numerose prolusioni al Forum e riprese e approfondite costantemente di frequente dallo stesso Presidente Cardinale Bagnasco. Io penso che alla base c'era proprio questa convinzione, questa necessità, il vedere che molte volte noi pensiamo che si possa scegliere, si possa agire ignorando un'idea di persona. Questo è, questo è. Quel progetto culturale ha preso sul serio, ha preso sul serio gli esiti cui aveva portato un preciso movimento storico-culturale. Mi riferisco sostanzialmente, almeno alle forme più eclatanti, noi le abbiamo vissute negli anni settanta. A partire dagli anni settanta cosa è successo? A partire dagli anni settanta abbiamo assistito a un radicale mutamento del paradigma antropologico che ha contribuito a mettere al centro, talvolta enfatizzandola in maniera esclusiva, la libertà individuale. Quasi rappresentasse l'unico valore. Questo dato oggi, e lo vediamo da tutte le parti, continuamente, questo dato oggi viene presupposto e viene assunto acriticamente, perché è ritenuto del tutto evidente. Ed è tacciato di essere retrogrado, repressivo, fuori dal tempo, chi tenta di metterlo in discussione. E mostrando, argomentando, che la persona non è solo libertà e libertà assoluta e che la sua, come scriveva Emmanuel Mounier, un autore a me molto caro, perché prima si è ricordato che mi sono laureato a Bari, io mi sono laureato su una tesi proprio su Mounier, poi su Bonhoeffer. A Mounier, di fronte a chi faceva queste affermazioni che oggi noi facciamo, lui scriveva che la nostra libertà è una libertà incarnata, una libertà su condizioni, diceva Emmanuel Mounier. L'uomo, lo sappiamo, non è libertà assoluta e chi di noi non consente a questa affermazione sta dicendo una bugia a se stesso. L'uomo non è libertà assoluta, è libertà incarnata, ma è anche tante altre cose, tante altre cose. L'uomo è ricerca, ricerca di Dio, ricerca della verità, della responsabilità, dell'accettazione del sacrificio, alle quali è intimamente legato il raggiungimento di una libertà vera, piena ed incarnata. Senza, lo capisco, guardate, senza poter giustificare adeguatamente, per via del tempo, l'affermazione che adesso sto per fare, diciamo che in breve che il relativismo, che in maniera invasiva si manifesta, vuole promuovere a tal punto la libertà individuale da non tollerare chi la intenda in altro modo, finendo talvolta per limitare la libertà altrui al fine di difendere il proprio concetto di libertà. E questa è un'autentica contraddizione, è un vero spirito post-filosofico, diciamolo chiaro chiaro, irrazionale, irrazionale. E provo ad inserirmi proprio in queste derive, sono un kamikaze, io voglio inserirmi proprio in queste derive e confrontarmi razionalmente con esse, formulando una proposta molto semplice, molto concreta, sulla quale molti filosofi, grazie a Dio, hanno riflettuto approfonditamente e che rende ragione di tanta parte della mia, della vostra, della nostra vita quotidiana. Il mio angolo di visuale, ecco la proposta che avanzo, è di comprendere l'essere umano a partire dal limite, articolando così una antropologia del limite, non nel senso di un'antropologia rinunciataria, non nel senso di un'antropologia non orientata alla felicità e al benessere della persona, ma un'antropologia orientata nel senso di un'antropologia che persegue tutto questo tenendo conto della nativa mancanza dell'uomo. Il limite e la mancanza che ognuno di noi sperimenta non possono essere semplicisticamente messi da parte come un inconveniente o un elemento trascurabile, ma vanno assunti, vanno assunti, il limite e la mancanza, vanno assunti come elementi che strutturano radicalmente l'essere della persona e vanno valorizzati come portatori di una potenziale ricchezza. L'uomo è, nella sua essenza, un essere nel limite, un essere nel limite. Non mi riferisco qui, ripeto, al limite morale, cioè al male che talora l'uomo deliberatamente decide di compiere e che ne corrombe l'integrità danneggiando se stesso il prossimo. No. Parlo, invece, del limite insito nella natura stessa dell'uomo, in quanto essere creaturale è intrinsecamente mancante, mancanza della quale facciamo esperienza ogni giorno e che si manifesta in molte forme ed innumerevoli aspetti, nella malattia e in ogni forma di sofferenza, nella difficoltà o impossibilità di realizzare le proprie aspirazioni, nella fatica a collaborare e a convivere con gli altri, nella morte che pare a zerare e svuotare ogni obiettivo raggiunto. e allora se il limite di cui siamo rivestiti non è accettato, l'esistenza può trasformarsi in una finzione, in una finzione e diventare il tentativo di svincolarsi dai limiti senza mai riuscirvi, di negare la propria natura finita e la propria pochezza. L'essere umano desidera ciò che è grande ed illimitato e tende a raggiungere cose sempre più grandi di quelle che ha. Questo è positivo e non è un male in se stesso. Lo diviene però se egli rifiuta la sua debolezza e intende questi obiettivi come diritti, arrivando a pretendere di raggiungerli invece di perseguirli con costante umiltà. Sì, c'è anche una umiltà antropologica. C'è anche un modello antropologico che prevede tra le caratteristiche fondamentali dell'uomo l'umiltà. Quell'umiltà che è atteggiamento interiore, che consente di valorizzare il limite rendendolo motivo di crescita invece che di rammarico. L'umiltà che non è comoda rassegnazione. umiltà che è la virtù che permette di accettare la propria condizione senza desiderarne un'altra, ma accogliendone le sfide e la bellezza. Solo così il limite nell'uomo diventa un valore propulsivo, genera desiderio, che è il motore della volontà. Se l'uomo possedesse tutto non cercherebbe nulla, se al contrario si scopre mancante e mosso alla ricerca di ciò che non ha. Questo avviene per esempio sul piano della conoscenza, come spiega un intenso passaggio della Fides et Razio, mi riferisco al numero 17, dove Giovanni Paolo II scrive il desiderio di conoscere è così grande e comporta un tale dinamismo che ecco qui il cuore dell'uomo pur nell'esperienza del limite invalicabile sospira verso l'infinita ricchezza che sta oltre perché intuisce che in essa è custodita la risposta pagante per ogni questione ancora irrisolta. E' bellissimo secondo me mettere quella domanda, quell'interrogativo di Mario Luzzi accanto a questo passaggio bello intenso della Fides et Razio e compresi in quest'ottica la percezione del proprio limite è fonte di nuove scoperte perché suscita nell'uomo il desiderio di conoscere e di cercarle. Questo avviene su tutti i piani del vivere umano dalle relazioni al benessere economico alla ricerca dell'assoluto e guardate che quello che il Papa sta dicendo anche in questi giorni sulla economia o li inseriamo in questo contesto in questo modello antropologico altrimenti le vediamo solo come frasi che vanno a colpire Tizio Caio ma non è questo il problema è quello di inserirli in questo modello bello faticoso ma accettabile dell'essere persona questo è in quest'ottica il limite non è semplicemente sinonimo di imperfezione ma è la radice stessa dell'apertura dell'uomo proprio l'esistenza dell'indigenza l'esperienza dell'indigenza infatti che nasce dal limite porta al fascino delle frontiere il limite allora è una scuola è una scuola capace quella mancanza è una scuola capace di insegnarci quale sia il segreto della vita l'antropologia del limite però non può risolversi in uno sterile elogio del limite spero di non aver dato questa impressione non può risolversi in uno sterile elogio del limite in quanto tale né dell'imperfezione in se stessa ciò che invece va elogiato è l'essere umano e la sua umanità un humanum come ho più volte affermato che non può prescindere dal limite e dalla consapevolezza del proprio limite ma se ciò mette al riparo da qualsiasi forma di perfezionismo non ci dispensa certo dal cercare risposta ad alcuni ulteriori interrogativi chiarificatori su quella che in mancanza di altri termini sto chiamando antropologia del limite ha percepito il mio limite questo vuol dire essere attenti bravo mi ha visto al limite ecco ma se questo ripeto mette al riparo da qualsiasi forma di perfezionismo non ci dispensa da rispondere a qualche domanda tra le tante possibili due questioni immediate meritano la nostra attenzione la prima l'antropologia del limite non priva l'uomo di una meta e di un ideale e poi la seconda secondo me più forte più vicino un po' alla nostra esperienza quella che abbiamo chiamato che chiamo antropologia del limite non favorisce forse il lassismo morale a proposito della prima domanda credo si possa concordare sul fatto che la persona senza ideali e senza meta finisce presto col vivere una vita senza senso chi non ha una meta chi non ha un obiettivo chi non si pone sì un obiettivo prima o poi più prima che poi finisce per vivere una vita senza senso d'altra parte va riconosciuto che un ideale antropologicamente insostenibile facilmente finisce col determinare un orientamento negativo della persona esattamente tale e cioè antropologicamente insostenibile appare un ideale della perfezione che rifiuta di realizzarsi di camminare di pari passo con la positiva coscienza del limite quando questa manca infatti si innescano meccanismi che rendono inevitabilmente disumani sia a livello psicologico sia sul piano etico guardiamoci dagli spiriti sazi se li incontrate per la vostra strada incontrateli gli fate un inchino ma andate da un'altra parte andiamo da un'altra strada andiamo da un'altra strada accogliere il proprio essere umano vuol dire allora riconciliarsi col proprio essere mancante col proprio essere indigente senza per questo sentirsi condannati a vivere senza ideali senza sentirsi condannati a rinunciare al fascino delle frontiere tra queste in questo contesto quella che possiede un fascino maggiormente irresistibile e anche la frontiera più realistica da raggiungere è quella di divenire pienamente umani il primo fascino la prima cosa che dovrebbe starci a cuore la prima realtà sulla quale dover investire è questo divenire pienamente umani e finora ho detto cosa almeno a mio parere significa tutto questo vedendo al secondo interrogativo il dubbio cioè che l'accettazione del limite o la coscienza di esso come condizione di apertura possa aprire la strada all'assismo morale vorrei chiarire alcuni passaggi finora in questo mio ragionamento ho cercato di sottolineare l'esigenza di riconoscere la contemporanea presenza nell'uomo del senso del limite del fascino delle frontiere in altre parole e con temi un poco più filosofici nel modello antropologico che propongo ripeto senza alcuna pretesa di originalità non è possibile affermare una separazione tra l'essere storico ed incarnato dell'uomo e il suo essere trascendente fatto quindi per autotrascendersi e le pagine qui sono enormi quelle che tante pagine esistono se posso permettermi suggerire di leggere qualche pagina molto bella molto immediata soprattutto molto sofferta di Viktor Emil Frankel su questo cioè sul fascino delle frontiere e guardate che lo dice uno lo ha scritto uno che è stato nei campi di concentramento uno che ha ascoltato il grido della moglie e della figlia mentre venivano portati a morire via delle pagine stupende su questo senso del limite ma fascino delle frontiere sono convinto quindi che chi desidera chi considera l'accettazione del limite come anticamera obbligata e come strada che sfocia inevitabilmente nell'assismo morale e comunque nella rinuncia al superamento del limite chi fa questa affermazione poggia questa affermazione su almeno due presupposti errati il primo è che il limite di cui mi è stato chiamato di parlare il primo è che il limite di cui stiamo parlando sia già di per sé se non sinonimo almeno frutto di leggerezza e di mancanza di volontà personale e non invece come ho detto finora dimensione costitutiva dell'essere umano il secondo presupposto errato sta nel ritenere che parlare di coscienza del limite e di accettazione di essa coincide a tu cur con l'esaltazione del difettoso e con l'elogio dell'errore in quanto tale no mi pare a questo proposito totalmente condivisibile l'osservazione di Dietrich Bonhoeffer che in Santorum Comunio scrive quanto più chiaramente forte questa espressione di Bonhoeffer quanto più chiaramente viene riconosciuto il limite tanto più profondamente la persona entra nella condizione di responsabilità un'osservazione è quella del pastore Luterano che trovo profondamente radicata nell'evento cristiano qual è infatti il volto di Dio che Gesù ci rivela e che da soli mai avremmo potuto conoscere adeguatamente è il volto di un padre che usa la sua onnipotenza per amare che guarisce la disobbedienza con il perdono e non con la punizione che chiede di farsi poveri perché lui per primo in Gesù sceglie la povertà per stare con noi il verbo si fece fragilità sarx il verbo si fece fragilità la diffusione del cristianesimo è l'evento che più ha rivoluzionato la storia del mondo ed il modo anche di pensare l'umanum credere in un Dio che soffre fino alla morte che è il punto drammaticamente più alto del limite credere in un Dio che vince il male assumendo la debolezza altrui introduce una visione che stravolge per sempre le categorie attraverso le quali si pensava il divino generalmente inteso come un Deus in altissimis sono pagine molto belle di Don Italo Mancini su questo che inviteri a leggere no? questo superamento del Deus in altissimis e quindi anche di un concetto di trascendenza che fa i conti con la storia bello senza impoverirla senza impoverirla per cui il Deus in altissimis non si impoverisce incarnandosi no no il comandamento dell'amore che per il Vangelo riassume tutti i comandamenti porta a intendere gli ultimi i mancanti i limitati secondo la mentalità del mondo non più come scarti ma come persone da sollevare e delle quali condividere la sorte addirittura Papa Francesco al numero 198 il prodotto dell'Evangelii Gaudium parla di poveri come categoria teologica categoria teologica per questo l'ascolto della parola di Gesù la meditazione del suo esempio la contemplazione del mistero della Pasqua forniscono una luce ineguagliabile sull'uomo e rappresentano una antropologia del limite già compiuta e nella sua perfezione domanda per andare verso la conclusione altro poco posso stare un altro poco quanto vuole come quanto voglio no pericoloso c'è qualche limite anche di tempo però è ancora abbastanza in largo ah benissimo benissimo no ma non avete non avete paura perché ho soltanto un foglio e mezzo perché sapete certe volte quando uno fa parla cosa fa prendono i fogli li mettono dietro non danno mai a chi sta ascoltando la possibilità di dire ma quando finisce questo e purtroppo non vedete da lontano ecco c'ho solo questi due adesso uno non è nemmeno completo uno non è nemmeno completo allora la domanda con la quale vado verso la conclusione quali orizzonti possono aprirsi a partire da queste semplici ed immediate considerazioni quali orizzonti possono aprirsi per la società per la chiesa per ciascuno di noi è stato affermato sapientemente che sviluppo e perfezione non sono sinonimi questo non significa che ci si debba accontentare a livello individuale e nella società di ciò che è mediocre no non significa neppure che ci si debba appiattire su una moralità che non tende alla perfezione ma si adagia su un minimo o su una comoda via di mezzo no la non equivalenza di sviluppo e perfezione implica qualcosa di molto più profondo e sa come conseguenza che chi sperimenta qualche forma di difficoltà venga integrato e non scartato che quanti sono i margini dello sviluppo siano coinvolti e le loro potenzialità messe a frutto e allora cominciamo con la società una società che fa del limite una risorsa non considera i gruppi e gli stati per quanto sanno produrre o per le risorse finanziarie di cui dispongono e tenta anzitutto e con i mezzi di cui realisticamente realisticamente dispone di risollevare i poveri per non creare un mondo a due velocità lo fa con l'attenzione a tutti i poveri a quelli che non hanno il lavoro o lo hanno perso a quelli che provengono da zone più povere ed economicamente arretrate a quelli che non sono in grado di difendersi perché attendono di nascere e godere della vita la Chiesa anche la Chiesa è sollecitata da un'antropologia del limite a rinnovarsi nelle sue strutture nelle dinamiche decisionali e nelle prassi concrete delle comunità ce lo ha ricordato Papa Francesco ripetutamente e ha scritto nella Evangelii Gaudium proprio questo le comunità ecclesiali e le associazioni già sono per il nostro tempo un mirabile segno della presenza di Dio e della carità che da Lui promana queste giornate di incontro e di riflessione mi sembra che ne siano un esempio a cominciare da quello che ho letto che è avvenuto già ieri qui dentro mi sembra che siano già un esempio tuttavia ancora tanto dobbiamo fare nella via della testimonianza tanto ancora dobbiamo crescere nel dar vita a dinamiche autenticamente evangeliche e libere che manifestino in un modo sempre più trasparente la carità da cui noi per primi siamo stati raggiunti una Chiesa che fa del limite una risorsa assume lo stile missionario tanto invocato da Papa Francesco divenendo sempre meno dispensatrice di servizi e sempre di più ospedale da campo chinata sugli ultimi nei quali è racchiusa la più grande ricchezza nei quali è presente lo stesso Signore dai quali spera di essere accolta nel regno dei cieli guardate io ne sono proprio convinto quando nell'altra vita da parroco mi dedicavo come tantissimi parroci la stragrande maggioranza di loro ai poveri io me la sono fatta di più che i tossicodipendenti devo dire la verità o agli altri no ma sapete in fondo in fondo perché lo facevo ma ve lo dico tanto nessuno ci sente mi dicevo mi dicevo che vado a Padre Eterno e quello dice ma tu che vuoi da dove ne vieni spero che arrivi qualcuno di quelli che ho incontrato io e dici fallo entrare lo conosco io a questo questo è questo è questo e da ultimo da ultimo è la vita del singolo che deve essere rivista e ammodernata dico io da una più forte consapevolezza del proprio limite chi assume il limite alla maniera di cui abbiamo detto fin qui lo sperimenta non solo come sofferenza sì molte volte è faticoso accettare il proprio limite a qualsiasi livello guardate chi accetta questo questa che dimensione costitutiva quella del limite che dimensione costitutiva dell'essere umano ma anche consolazione diventa anche consolazione molte volte non so se voi avete fatto esperienza quando uno ce la mette tutta capisce che è un limite ce la mette tutta ce la sta mettendo tutta e poi si ritrova un'altra volta con le mani nella sporcizia ecco questo penso sapere queste cose di cui vi ho parlato è anche fonte di consolazione fonte di consolazione beati gli afflitti dice Gesù nel capitolo quinto di Matteo al versetto 4 quasi a indicare la ricchezza offerta a chi accoglie e a chi coglie la debolezza come possibilità di abbandonarsi al padre una persona che fa del limite una risorsa mette da parte l'istinto a difendersi dagli altri si apre più facilmente alla condivisione e per chi crede trova nella preghiera la via di accesso a beni più grandi e allora concludo concludo ribadendo che un'antropologia del limite non si traduce in un elogio del limite stesso ma in una esaltazione dell'essere umano capace di generare un ideale di perfezione che tenga conto del limite lo traduca in storicità concretezza incarnazione la prima frontiera che alla luce dell'antropologia del limite divenne possibile è quindi come ho detto quella di diventare più umani più umani in un cammino che per molti di noi nel presente come per tanti altri nel passato è coinciso con l'incontro nella fede con Gesù di Nazareth in lui il senso del limite umano trova pienezza di significato e viene sanato da ogni stortura chi lo ha sperimentato è chiamato a darne testimonianza fraterna testimonianza rispettosa a chi fatica in questo percorso alla ricerca di risposte autentiche guardate penso che chiudo penso che solo quando la propria vita è condotta alla luce di queste considerazioni quando solo quando la nostra vita consapevole del limite continua a subire il fascino delle frontiere solo allora è possibile riconoscere come vere e fare propria l'intensa invocazione di Agostino ci è fatti per te signore è il nostro cuore è mancante è inquieto finché non riposa in te grazie 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 eccellenza a nome di tutti e questo applauso lo conferma grazie per quello che ci sta aiutando che ci ha aiutato a capire un po' di più e renderci conto del grande infinito tesoro che abbiamo per le mani l'unica cosa che vale la persona l'unica cosa che vale veramente l'unica cosa da rimettere a fuoco l'unica cosa da preservare l'io la persona perché quando si rimette a fuoco questo tutte le cose tutti i problemi tornano nella loro giusta prospettiva tornano al loro posto i macro problemi i grandi scenari come accennava lei prima e la nostra vita quotidiana come ci ha aiutato a capire benissimo la persona l'io il grande tesoro la grande risorsa che abbiamo e grazie per averci aiutato ad approfondire come in questo tesoro una delle risorse più grandi sia proprio la nostra mancanza appunto lei ci ha aiutato a vederlo benissimo ma questo di questo facciamo esperienza continuamente non è il segno che siamo nati sbagliati ci ricordava il papa nel messaggio che ha mandato qui a Rimini il nostro desiderio la nostra mancanza non è il segno che siamo nati sbagliati quella che a noi sembra lei eccellenza diceva un inconveniente io uso un termine un po' più prosaico perché tante volte quello che ci sembra una fregatura il nostro limite in realtà è la risorsa che può aprire il fascino delle frontiere allora grazie grazie eccellenza per averci richiamato anzitutto lo sguardo che permette di abbracciare tutto questo lei ha parlato di uno sguardo che guarda a Cristo alla Pasqua alla Ressurrezione ecco uno sguardo pieno della Ressurrezione è quello che permette di rimettere le cose al loro posto e noi siamo grati per averci ricordato così come permettetemi siamo grati all'infinito di poter seguire e servire la Chiesa che è l'unico ambito l'unico luogo che ci richiama costantemente continuamente a questa verità di noi a questa serietà per la nostra umanità che come ci ricordava ancora Papa Francesco nel messaggio al meeting è l'unica condizione per poter vivere umanamente coltivare sempre questa sana inquietudine con cui anche lei ha concluso il suo intervento grazie di cuore ancora quindi a sua eccellenza Monsignor Galantino permettetemi di ringraziare anche il servizio nazionale della CEI per il progetto culturale perché questo incontro è nato con la collaborazione appunto del servizio nazionale della CEI vorrei fare un applauso anche all'opera di cui stanno e l'augurio di vivere tutti gli altri incontri del meeting e tutto il meeting come un approfondimento di quello che anche in questo passo che abbiamo fatto oggi possiamo scoprire su noi stessi e sulla realtà grazie e buon meeting